Vai! Allora, Lara, stiamo registrando, eh! Quindi? Allora, cosa ci dici? Siamo a Torino! Parla più forte che non ci sei! Siamo a Torino! Eh, l'abbiamo capito! Di nuovo, stiamo ascoltando Silvia e in senso facciamo un video! Eh, è già finito? Di qualcosa della statua! Non so, c'è una statua, c'è una costana! La piantina, fai vedere... Ti sentite, ma... Sì, sì, ti sento, non ti sento! Faccio un primo piano! Vai, faccio un primo piano! Allora, prima avevo il romperello e Stefano adesso... E qui? Mi ha scritto I love Ryan! Facciamo vedere... Ryan! Ryan Giggs! Eh, Irlanda, hai detto! Allora... Eh... Qui c'è una statua! Dico il cosa! Qui c'è una statua! E quando una piantina è tenata? Eh, dovremmo fare lo zoom, si vede però la pianta, si vede, si vede! E ti dici qualcosa riguardo alla statua? Non lo so, cosa sta tenendo qua? Eh, non lo so, il sapone sarà, per farsi i bagni! Infatti, 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 se vedete, c'è la schiuma del sapone! Tra i traiti la schiuma del sapone! Si vede, si vede qua! Ecco, niente, dovete capire che Lara non sta molto bene, quindi... Io me lo mando! Ha dei problemi! La ragazza qua ha dei problemi! Ok, basta! Niente, hai altro da aggiungere? Piove, una bellissima giornata! Saluta a casa, saluta a casa, saluta la mamma, saluta tu! Ciao mamma, ciao papà! Saluta! Ciao! Ciao, ciao, ciao!